Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo l'abbiamo già presentate tante però vabbè è una macchina che sicuramente ha molto successo e ce ne capitano tante perché no ripresentare appunto una suzuki swift sport in versione hybrid e ricordiamo che le swift sport appunto si dividono nella versione diciamo normale e nella versione hybrid ultimamente ovviamente per questioni diciamo legate alle normative più più recenti tutte quelle che ci capitano grosso modo sono quelle hybrid una macchina che sicuramente da un punto di vista tecnico e commerciale avendo un successo notevolissimo ce ne capitano veramente tante è molto bellina come macchina molto come dire valida da un punto di vista di assetto di motore cioè devo dire che non ha è una delle migliori macchine piccoline nella sua categoria ovviamente una delle migliori macchine che ci sono in circolazione quello che normalmente i clienti ci chiedono sostanzialmente sono sempre le stesse cose noi escludiamo su macchine nuove di saltare già su uno stage 2 uno stage 3 è troppo presto sono tutte macchine che sono ancora in garanzia non avrebbe senso quindi quello che ci chiedono come avete visto su altri video precedenti è sostanzialmente il completamento di uno stage 1 totale o parziale in questo caso è parziale dopo lo descriviamo e diciamo che partendo dalla parte elettronica proponiamo sempre le centraline disinseribili programmate da noi ma disinseribili in modo tale da poterle disinserire prima di portare la macchina in assistenza evitando di perdere la garanzia in questo caso ultimamente con la tecnologia che appunto si è evoluta sia per quanto riguarda la centralina chipbox sia per quanto riguarda il pedal booster che è questo sistema che serve per velocizzare la risposta sul pedal acceleratore e togliere quel lag in partenza c'è sia la versione normale sia la versione connect poi magari in un altro video su un'altra vettura più avanti descriveremo questa versione connect perché molto interessante da delle opportunità in più dei vantaggi in più rispetto alla classica con una unica sola mappatura in questo caso però il cliente ci ha chiesto di partire dal discorso scarico quindi il discorso scarico come abbiamo già fatto vedere in più di un'occasione la ragazzon produce uno scarico specifico per appunto la versione ibrida sport ibrida con come diciamo sempre la somma del terminale più il centrale qui vediamo a terra come potete ben vedere la dimensione e il numero di silenziatori in questo caso abbiamo nella parte centrale addirittura due silenziatori e nella parte finale un silenziatore diciamo abbastanza grosso come dimensione non enorme ma abbastanza grosso il terminale già in origine parte duplex e quindi nella versione modificata rimarrà duplex però che cosa cambia partiamo dalla dalla parte estetica la parte estetica cambia notevolmente rispetto appunto a quei tubili che penso siano da 80 adesso non abbiamo fatto la misura questi sono da 112 con la camera esterna in carbonio quindi molto belli anche da vedere visivamente stanno perfettamente dentro l'asolo qua il cliente ha fatto rifare il sottopare il damper posteriore e ho visto che ha fatto anche la lama anteriore questo è un lavoro che ha fatto cliente in carbonio quindi questo questa parte si lega perfettamente anche da un punto di vista estetico passando invece da un punto di vista pratico vediamo subito dunque questo è il terminale ovviamente omologato con tanto di etichetta e al cliente lasciamo la famosa card in maniera tale che a qualunque controllo non non abbia nessun tipo di problema il silenziatore essendo il terminale omologato il silenziatore ci deve essere ovviamente però se noi lo raffrontiamo già quello di serie direi che è meno della metà sarà il 40 per cento più o meno di quello di serie e questo per quanto riguarda la parte terminale se andiamo avanti questi sono i due rompifiamma silenziatori centrali che qua proprio sono scomparsi erano appunto messi in questa in questa parte qua dopo casomai tiriamo giù la macchina dal ponte e sentiamo la differenza appunto rispetto a uno scarico di serie dove non abbiamo fatto il video con lo scarico di serie ma vi posso assicurare che la macchina uno l'accende se non vede l'ago del contagiri che si muove praticamente muta e completamente silenziosa adesso tiriamo giù la macchina dal ponte facciamo sentire la differenza e vediamo che tipo di risultato possiamo avere quindi diciamo che per chiudere il la somma cioè il risultato di un lavoro di questo genere sostanzialmente lavora in tre ambiti uno da un punto di vista estetico uno da un punto di vista di sound che dopo sentiamo e uno anche da un punto di vista prestazionale perché andando a togliere diciamo due ostruzioni e mezzo diciamo così la macchina scarica meglio qualche cosa in cavalli sta parlando sempre di tre quattro cavalli qualche cosa in cavalli guadagna quindi anche questo è un valore aggiunto che va a compensare a giustificare una spesa che poi fra l'altro non è neanche eccessiva io adesso tirerei giù la macchina dal ponte e sentiamo la parte di sound la macchina dal ponte e sentiamo la parte di sound che c'è la macchina dal ponte e sentiamo la parte di sound ok quindi avete sentito mi spiace non avevi fatto sentire il sound all'inizio comunque direi che il sound con il terminale sportivo è assolutamente perfetto non è né troppo né troppo poco rumoroso quindi come consigliamo ai clienti di non chiederci delle cose eccessivamente rumorose perché poi alla fine sono controproducenti che si sentano sì però in maniera sempre diciamo contenuta dentro un limite decente prima di chiudere faccio una correzione rispetto a quello che ho detto prima perché mi sono documentato meglio i miei mi hanno redarguito dicendomi che tutte le finiture che ci sono in carbonio sono di serie su questo modello prima di ricevere appunto critiche non avevo intuito questa cosa quindi tutto quello che è in carbonio della macchina che si va accompagnare con i terminali esce di serie specifico per questo modello io direi che anche per questa vettura è tutto per qualunque informazione come vi consiglio sempre andate a vedere il sito www.9milagiri.it soprattutto cliccate nella parte archivio elaborazione dove ci sono più di 1500 schede vettura dove poi inseriremo anche questa mi potete chiamare telefonicamente come fate spessissimo tutti quelli che vedono i video o prima o poi mi contattano al telefono 027383175 e soprattutto quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo saluti alla prossima saluti alla prossima